Saluto caro tutti, ringrazio Stefano per avermi dato questo ruolo che però sarà soltanto, lo prometto, di passacarte e poco più non voglio togliere tempo ovviamente ai relatori e direi che dopo aver elogiato in modo non formale non solo formale l'iniziativa e via dicendo quindi ancora profitto per ringraziare l'invito anche come relatore in una prossima puntata e direi che vado subito a presentare appunto il primo relatore che è Luigi Severi giusto? Mi pare di sì Benissimo dunque Luigi Severi diciamo che conosco da tanti anni anzi non vedo da tanti anni mi fa molto piacere vederlo è un mio sostanzialmente coetaneo nato a Roma nel 1972 ha scritto cose importanti sulla letteratura rinascimentale tra cui una monografia sulle insomma sono questioni legate alla produzione a stampa in volgare il primo 500 e poi si è anche espresso variamente su questioni più legate alla poesia contemporanea anche in modo militante tra l'altro per le edizioni di Biagio di Biagio Cepollaro ha scritto un ebook sull'intellettuale dissidente diciamo che aveva scritto in ricordo su critica del testo un saggio sull'intertestualità dantesca nella poesia novecentesca è anche recente e so che sta appunto continuando a lavorare su questo preparando una monografia tema che peraltro mi interessa moltissimo io tra qualche giorno appunto mi tocca parlare di in altra sede di Dante in Caproni quindi insomma è un tema che che mi interessa molto oltre a interessare un po' a tutti quest'anno dantesco non ci sottraiamo non riusciamo a sottrarci ecco se qualcuno vuole fare qualcosa di molto controcorrente può organizzare un convegno su Petrarca dunque appunto ha pubblicato su tante sedi cose su sulla poesia contemporanea ma è anche è anche poeta è anche poeta improprio appunto ha pubblicato io ricordo il primo libro di poesia terza persona che è uscito per per nel 2006 e e poi ha pubblicato specchio di imperfezione corona sinopia ancora per per edizioni di Anterem il suo ultimo libro Eris è uscito invece per Aragno nell'anno nell'anno bellissimo 2020 in cui sono successe anche delle cose positive come vedete come l'uscita del libro del libro di Luigi ecco null'altro se non se non dirvi che oggi ci parla di un tema che potenzialmente sicuramente poi anche attualmente è interessantissimo cioè forma della complessità su alcuni procedimenti delle nuove scritture prego Luigi grazie mi sentite? ho sempre il dubbio atroce perfetto ottimo grazie allora un attimo di pazienza mi sono allenato ve lo sono testimoni sia Giulia che Stefano adesso devo ecco vediamo un po' ok vedo anche dunque poiché il il mio orologio si è fermato nel momento meno opportuno qualcuno mi dovrebbe fare un cenno agitato se dovesse vedere che vado troppo troppo lungo me lo promettete questo va bene del genere ecco tipo un entice a monitore esatto esatto grazie allora cominciamo ok dunque tema insomma complesso diciamo quello di cui dovremmo ragionare che cerco di riportare qualche linea chiara con una partendo da da una classica partenza direi la più classica che sia concepibile su cose diciamo novecentesche o contemporanee ovvero l'ultima parte del saggio introduttivo della della dell'antologia storica insomma di di vincenzo mengaldo nel quale mengaldo come è ben noto e dico cose note a tutti qua e in qualche modo mostrava il suo il proprio disagio e la propria assenza di bussola critica rispetto al contemporaneo di allora ma questo poi smarrimento sarebbe stato sarebbe sarebbe andato avanti anche per il diciamo gli anni successivi il decennio successivo la poesia che avrebbe fatto seguito a quella che lui stava valutando in secondo luogo però dava già una uno spunto ovvero uno spunto per le ragioni e le radici di questo disorientamento ovvero la perdita del criterio fino a quel momento più chiaro ovvero la verticalità la linearità della tradizione non tanto ne parlava anche di quello il rapporto tra innovazione e tradizione quindi il make it new che aveva caratterizzato diciamo l'epoca moderna romanticismo in poi ma proprio la perdita stessa di nozioni di eredità che si stava in qualche direzione disgregando ora effettivamente questo è un tema a mio modo di vedere essenziale e cerco di essere su questo su questo rapido su questi spunti insomma iniziali di tipo teorico ma probabilmente chi ha affrontato meglio la messa in crisi questo principio sono stati alcuni noti studiosi di critica d'arte e di estetica il primo ancora diciamo che nella critica letteraria in questi ambiti a mio modo di vedere ne ho parlato anche in altra sede che occorre trovare alcuni criteri di rimenti alcune bussole appunto il primo diciamo è d'anto celeberrimo ora appunto riduco qui a semplificazione si sa che per lui diciamo simbolicamente il punto di rimente il punto in qualche modo di non ritorno della storia delle cose artistiche era l'Abrillo Box perché in qualche modo un episodio d'avanguardia quindi di rottura come quello di Duchamp veniva diventava invece una formula da poter riusare in questo modo ogni tradizione formale anche la stessa avanguardia diventava disponibile diventava tradizione appunto a sua volta e questo sicuramente era una svolta fondamentale che in qualche modo semplifico orizzontalizzava appunto le tradizioni e in qualche modo creava un ventaglio di possibilità ecco perché lui scrive l'arte contemporanea è pluralistica e quindi difficilmente riconducibile a formula questo in parte spiega lo smarrimento dei critici letterari perché sono probabilmente in parte congruenti i fenomeni molto nota anche da un bellissimo libro insomma la posizione di Hal Foster che porta avanti esattamente questa questa posizione sempre a partire dagli anni 60 che a mio giudizio sono cruciali anche nella ricostruzione delle cose letterarie ci sono delle ricostruzioni di cose letterarie recenti che partono dai 70 e secondo me questo non è corretto invece gli anni 60 sono uno straordinario laboratorio in tutte le direzioni che va affrontato dice Hal Foster proprio per vedere cosa è cambiato cosa è cambiato non ci sono più grandi giganteschi spostamenti ma sottili spostamenti ci dice la fine dei conflitti frontali un sistema complesso di futuri anticipati e passati ricostruiti un continuo processo di spinti in avanti e indieto un sistema complesso di piccoli spostamenti in tutte le direzioni non più quindi la verticalità lineare della tradizione inevitabile qualcuno forse se lo aspettava anche il passaggio a Bourriot che effettivamente è entrato probabilmente nel pantheon dei riferimenti per molti scrittori soprattutto artisti ma anche per molti scrittori il punto di partenza di Bourriot è sia le posizioni che abbiamo ora visto sia evidentemente la riflessione di Deleuze e Gattari riporto una frase notissima contro la scipita dialettica evolutiva ma insomma in generale tutto il sistema filosofico è loro e forse ancora di più dei Deleuzeani diciamo ecco tanto che il rizoma di Deleuze viene spostato verso il radicante in Bourriot quindi non tanto un andamento non soltanto un andamento rizomatico ma una moltitudine di radicamenti simultanei e successivi ora questo andamento erratico questo radicamento simultaneo e successivo caratterizza l'arte ma caratterizza a mio modo di vedere non c'è dubbio anche la poesia che peraltro in molte fasce con l'arte si contamina crescentemente così come viceversa l'arte si contamina crescentemente con la parola proprio dagli anni 60 dagli anni 60 in poi dunque è evidente anche che nell'ambito della scrittura che soluzioni appartenute a tradizioni sperimentali possono essere riproposte da scrittori che un tempo si sarebbero definite tradizionali e anche viceversa quindi da questo punto di vista le forme da questo primo punto di vista le forme si fanno complesse da ricostruire nella loro genealogia quantomeno e questo è evidentissimo per alcuni poeti anglosassoni che è molto complesso insomma riuscire a vedere un poeta britannico che ha un'attitudine tradizionale riuscire a ricostruire la fonte della sua della propria scrittura insomma che spesso è plurale appunto e penso è complessa ora qui ovviamente non sfioro soltanto una una delle chiavi di lettura da molti decenni del tempo dell'ultima modernità ovvero quella della complessità che ha come pensatore cruciale Moren nel bene e nel male però insomma non tutto può essere condivisibile ma sicuramente l'idea della multidimensionalità l'idea di spezzare le sfere chiuse questa idea di articolazione diciamo plurale uso un'espressione non sua nomadica gliel'attribuisco così senza che l'abbia mai concepita in effetti ha in lui comunque un pioniere così come effettivamente l'avere avvertito anche il rischio quindi il potenziale ma anche il rischio in qualche modo di perdita che c'è in un eccesso della complessità lui lo applicava principalmente come noto negli anni 70 e poi soprattutto fine 60 70 e poi via via all'ambito della pedagogia dell'ambito epistemologico diciamo ovviamente interconnessi della scienza che già procedeva su questo percorso della sociologia dell'economia che fanno un largo uso della complessità anche da parte dei critici del tardo capitalismo tanto più ovviamente nell'era informatica e ovviamente una congruenza con l'estetica c'è sempre stata c'era proprio a partire dagli anni 60 dico cose anche qui in qualche modo auto evidenti diciamo per rimanere in un ambito diciamo italiano e addirittura persino ristretto per quanto interessantissimo e interessantissimo per quanto già Maurio Diacolo nel 62 in uno dei suoi peraltro rari interventi parlava di complessità del visibile Persico in documento sud bellissimo parlava dell'ibridazione visiva e proprio del tessuto di relazione quindi vabbè poi insomma lo sappiamo e gli anni 60 sono questo sono la poesia totale di spatola sono l'intermedialità diciamo ora questo queste erano preveggenze estetiche lo chiamate poi ci sono ovviamente delle convergenze poi critico letterale due esempi su tutti diciamo il lo stesso Raimondi nel 2003 nelle pagine finali le più belle probabilmente del suo libro 900 e dopo invita proprio a usare questa della complessità come categoria per capire il presente e così invece diversi anni dopo pochi anni fa in effetti due anni fa Pegorari che un critico a proposito di quello che diceva prima Paolo soprattutto esperto di cose di riflessi di riverberi danteschi nel nostro tempo e non solo danteschi però effettivamente facendo delle riflessioni sulla letteratura liquida si interroga proprio sulla difficoltà di leggere l'andamento rizomatico del nostro tempo nessuno conosce dice lo schema del rizoma è vero che nessuno conosce lo schema del rizoma ma ovviamente è colui che per primo ha trasposto no per primo no in verità che ha trasposto in modo celebre però sì a cose sociali umane cognitive lo schema del botanico dell'erizoma appunto a queste sfere cioè Deleuze per la verità anche Gattari si dice sempre Deleuze ma insomma è ovviamente anche Gattari ci aveva dato delle caratteristiche caratteristiche connessione teleogenità molteplicità rottura significante decalcomania cartografia che sono che gli studiosi del web quelli molto felici di studiarlo hanno riconosciuto come profetiche perché sono categorie effettivamente perfettamente applicabili alla complessità appunto telematica e informatica ora quindi dobbiamo presupporre come leggiamo in Network Society di Van Dyck da cui colgo le citazioni di Charlie Geer che la la cultura digitale era in qualche modo corrispondente già un modo di pensare se è vero diciamo questa corrispondenza con uno schema agente nelle cose umane diciamo cioè quello rizomatico può essere sta di fatto però che in quella che ormai viene chiamata Network Society la connessione tra linguaggio e strutture di pensiero è cosa diciamo è una è cosa certa ed è anche un po' l'ecosistema diciamo dell'ultimo sviluppo della complessità in epoca appunto di tarda modernità come si voglia definire non postmoderno però o postmodernità questo qui il dibattito diventerebbe difficile io direi ultima modernità allora ora è chiaro che poi come sempre le menti umane divergono e ci sono dei celebratori come è noto Luciano Floridi nella quarta rivoluzione non l'ho trascritto vedo non l'ho trascritto forse per una spontanea diffidenza deve essere un atto mancato freudiano però insomma dice ce l'ho qui da qualche parte ecco per lui le tecnologie i CT diverranno tecnologie del sé in un'infosfera caratterizzata dall'identità on life che è chiaramente un incubo detto così altri invece appunto come Castells nel suo trascritto una frase del suo più famoso del libro ma insomma ne ha scritti molti invece è più prudente e evidentemente è prudente anche circa le conseguenze negative circa le influenze sicure del nostro modo di comunicare sul linguaggio e quindi sul pensiero e quindi anche più prudente circa l'abbandonarsi a questo flusso fino a veri e propri millenarismi per certi versi anche motivati ma questo è un'opinione che qui dico e qui nego come quella di Raffaele Simone o di altri insomma critici anche anglosassoni i quali vedono che l'impatto questo uso le parole di Simone della media sfera sul danosfera sul sistema di conoscenze conduce a una paradossale semplificazione dell'intelligenza delle operazioni a fine tutto sommato tecnoconologico ecco questo proprio per essere ipersintetico sia come sia non c'è dubbio che questo tipo di complessità che si definisca rizomatica o no è il nostro habitat e Andrea inglese molto per tempo cioè addirittura in deriva parodi nel 97 poi rifluito in un'antologia complessa mi si permette di dire complessa e su cui forse bisogna riflettere meglio cioè a Cusma del 2000 davvero in qualche modo secondo me preconizzante quello che diceva Raimondi perché è un insieme non ovvio ragionato una pluralità ragionata di scritti fondati non su appartenenza a tradizioni ma su elementi insondabili di qualità comunque difficili da definire ovviamente per questo parlo di complessità però insomma tornando a Andrea inglese Andrea inglese definiva molto per tempo la differenza davvero molto intelligente l'osservazione per cui tutto ciò che potrebbe quella multimedialità che poteva essere elemento di rottura negli anni anni 60 ormai non è altro sostanzialmente che l'habitat appunto e questo è un punto decisivo e quindi insomma direi che andando a sintesi il punto mi sembra questo innanzitutto il web rappresenta il in questo crescendo in questo articolarsi susseguente di situazioni sociali e di riflessioni un paradigma contraddittorio paradigma della complessità contraddittorio cioè complesso e semplificante dal tempo stesso poi da questa percezione di complessità complessità mediale economica sociale culturale e linguistica legata alla network society derivano delle forme sono derivate delle forme complesse nella letteratura e in particolare nella poesia e in parte attinte a più tradizione tre la necessità per usare appunto un'espressione di mesa di queste forme sta nel loro dialogare con la semiosfera attuale mettendo in rilievo le aporie le manipolazioni le disfunzioni nella direzione di una resistenza contro il d'appoperamento del senso quindi avva tutto vantaggio di una complessità pensante diciamo così qui è forse anche una proiezione in qualche modo allegorica delle disfunzioni possibili del primo linguaggio del primo dispositivo appunto che è quello linguistico vero e proprio infine alcune di queste forme complesse sono nel corso dei decenni divenute tipiche di molta scrittura quindi non soltanto di quella sperimentale qui ho riprodotto una parte all'introduzione dell'introduzione al companion alla letteratura sperimentale del 2012 non del 2021 ovviamente ho sbagliato chiedo scusa in cui si dice sono la letteratura sperimentale di contro quella mainstream interroga le istituzioni linguistiche su questo quindi riporta la letteratura a questione fondamentale le forme complesse diciamo proprio per quel sistema di tradizione reticolare diciamo così che già Danto e Forster avevano individuato per l'arte ma che probabilmente è vera anche per la letteratura anzi direi certamente questo tipo di forme in dialogo con la complessità informatica in generale con l'habitat complesso di oggi attraversano diverse tipologie di scrittura alcuni esempi cominciamo con i tempi quanto ho dunque direi a rigore avresti 6-7 minuti credo però vediamo se va bene 6-7 minuti adesso vediamo vediamo se i padroni del vapore ti concedono qualcosa intanto io vado su 6-7 minuti qui ho un orologio qualcuno me l'ha regalato quindi vedo che da 40 in poi considero una decina di 6 minuti diciamo una decina se no poi diventano 15 bene grazie scusami Paolo allora alcuni esempi diciamo di queste forme che dialogano con la complessità appunto informatica e la loro eventuale trasversalità beh sul primo punto no non c'è trasversalità perché è una dinamica più propriamente sperimentale l'utilizzo dell'inconscio della macchina cioè del software che può essere una modalità per rendere la scrittura efficace in quanto dispositivo che cosa succede insomma che lo scrittore in linea anche con alcune tradizioni anni 60 abbastanza specifiche e nette da spatola nanni balestrini eccetera e non solo italiane e usa la macchina diciamo così come tecnica desoggettivante quindi in modo da rendere assoluta la sua pronuncia storica o individuale un caso estremo fornito da Fabio Teti spazio di Desto la cui impostazione è questa un nucleo di testi ad altissima temperatura retorica quindi con una postura che lo scrittore avverte come iper retorica appunto e molto assertiva per usare una parola diciamo oggetto i dibattiti degli ultimi anni è sottoposto questi testi sono sottoposti che non ne compaiono a due procedimenti di riscrittura la prima parte del libro che in realtà poi è la seconda perché i primi sono premessi si chiama disfazione e nasce da un processo di sottrazione attraverso un cut up drastico affidato però a un software ovviamente con successivi interventi compensatori la seconda si chiama diversione e nasce da una sollecitazione invece in qualche modo centrifuga da un procedimento di ipertraduzione dei testi attraverso google translator e poi riportando tutto in italiano attraverso una moltiplicità di passaggi tra lingue quindi questi testi vengono in qualche modo trascritti secondo attraverso due procedimenti differenti lo scopo ovviamente è quello di aggirare il dispositivo identitario in situ nella scrittura questo allontanamento di una fase ancora troppo soggettiva diventa quindi il motore di una di un'invenzione anzi di un'intenzione di scrittura che possa parlare per l'insieme e non solo per l'individuo ecco che allora per esempio nelle pagine della seconda di diversione emergono anche questa seconda parte improvvisamente anche degli elementi quasi rimossi della storia di una storia pubblica e non più assolutamente privata nelle quattro fasi invece di di Marzaioli il procedimento è diverso l'autore di fase in fase ci guida verso il suo metodo i due aspetti i due elementi più importanti sono più interessanti sono il primo e l'ultimo la prima fase diciamo è la quarta in mezzo ci sono quelle più sperimentali usando in modo così maldestro questo termine e la terza fase è quella invece della fusione così la chiama lui cioè un'analisi linguistica computazionale affiliata a un programma automatico e allora il primo la prima fase è quasi è quella più se vogliamo non ovviamente è lirica ma è più tradizionale insomma c'è una maschera ecco c'è un c'è un io però mascherato e c'è una diciamo siamo alle soglie è lirico sebbene in qualche modo ritualizzato e disinnescato come in alcune cose di Giulio Marzaioli e la quarta invece attraverso tutto questo processo è un catalogo straniato di sintagmi una specie di geografia del quotidiano universale però molto straniante e quindi in entrambi i casi sia per Teddy che per Marzaioli lo scopo dell'utilizzo dell'inconscio di questo dispositivo in qualche modo è uscire dal dal personale e arrivare a un indizio di verità che sia valido per tutti questo appunto siamo un terreno in qualche modo proprio frontale due ora qui devo andare più veloce mi rendo conto il il riuso di procedure linguistico cognitive può essere di due tipi uno è effettivamente quello della sperimentazione più contemporanea come i soft poems che sono stati teorizzati da Silvio Muhammad ospitato nel 2007 mi sembra su GAM molto importante da questo punto di vista il lavoro di GAM e direi anche storicizzabile e un'altra forma diciamo di cut up cut and move definito appunto l'autore di questo metodo c'è una connessione con le vecchie tradizioni adesso però insomma questi oggetti trovati su su google poi vengono in qualche modo rielaborati e vengono anche accostati in modo a far sfociare un senso o una frattura di senso le due opere diciamo proprio Paolo Zubena peraltro si è occupato in un saggio scritto a quattro mani con piccone di questo di questi due testi Gallest e No Man is an Island che sono due testi proprio in cui utilizzano questa modalità di prelievo diciamo riscritto con fratture eccetera ne escono spesso come si vede questi sono testi dati da Gallest di Giovenale delle liste oppure delle manovre anaforiche diciamo che hanno però una forza politica e che sono dei prelievi ovviamente politicamente stratti per secondo una intenzione precisa oppure addirittura dei magmi plurilinguistici che ci ricordano un po' il lavoro fatto su Google Translator sebbene noi ne abbiamo visto sull'ultima versione da Teti e questa è una modalità però ci sono modalità più pacate per certi versi di riuso e le troviamo per esempio nel terzo paesaggio della Morresi di Renata Morresi dove c'è la ripresa di schemi in qualche modo di generi che appartengono ai social e che vengono per uno scopo o di denuncia o di denuncia della mancanza del senso nella trivializzazione diciamo di alcune formule da web il terzo paesaggio è composto da una serie di testi che testualizzano mi si perdone il bisticcio il web ma in modo ovviamente da metterne in rilievo la tragedia che vi scorre sotto quindi l'offerta insomma evidentemente di qualche da qualche sito insomma hot la petizione che via via si disgrega e poi anche e pagine social che vanno verso il tuo messaggio al mondo ampio web che vanno verso una disgregazione di senso e queste sono tecniche ben diverse però sono diciamo dentro un libro che certo di sperimentale non ha nulla questo intendo con fluidità anche delle tradizioni sono dei libri di intenzione di direzione diversa ma entrambi hanno utilizzano queste procedure diverse ma con una diciamo a partire da schemi diciamo del web o linguaggi del web contenuti nello la terza tipologia è quella dei testi glicciati come dicono i giovani oggi di cui maestro è Michele Zaffrano che lavora molto ora non ho tempo di fare di riassumere il suo intero percorso ma lavora senza altro molto proprio sull'errore sulla disfunzione sul solicismo sul barbarismo che disgrega sul solicismo o sull'anacoluto o sulla frattura grammaticale che per esempio in power pose che a poco a poco assottiglia il senso in cinque testi fra cui gli alberi perdonatemi la sintesi abbiamo un meccanismo di infantilizzazione progressivo quasi una forma di utopia rovesciata di rinascita linguistica impossibile paragrafi sull'armonia è l'utopia che diventa maniera ritualizzata power pose che è veramente rizomatico che si può leggere da due parti diverse da una parte o dall'altra i testi sono gli stessi ma non sono gli stessi creando quindi uno sfasamento semantico fino a la vera e proprio tragedia della lingua cioè quando la grammatica diventa il solicismo diventa la sgrammaticatura e quindi è la messa in scena sul mare dei blocchi comuni della lingua impossibile che non comunica e questo è una lingua per così dire ripeto scherzosamente ma non tanto glicciata poi ci sono anche altri esempi però qui andiamo troppo oltre la iperconnessione reticolare nell'iperconnessione reticolare cioè quelli che vengono chiamati big data l'età dello z byte diceva appunto floridi che qui invece riprendo sì ti vedo comparire devo chiudere con molto rammarico diciamo ancora un minuto due un minuto ok d'accordo allora vado veloce con gli esempi va bene poi rimandiamo se mai rifacci vedere le slide comunque ok 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 allora qui abbiamo poletti e quindi abbiamo come vedete un aggregarsi di dati che però non fanno non creano senso questo è il standard greco con l'utilizzo diciamo appunto i big data di tutte quante le diciamo nozioni trovate su google che vengono esposte poi ovviamente ostuni che in questo sistema reticolare primeggio l'intero faldone si chiama così appunto è fondato su questa idea reticolare di nozioni oppure inventariale gli inventari di inglese di nuovo l'elenco di ostuni ma anche l'elenco appunto che troviamo in ciaco ma troviamo anche paradossale sovvertito in anelda un'altra possibilità l'insieme la raggera di stili c'è la possibilità di lavorare su molti stili quasi contemporaneamente in molte direzioni cosa di giovenale ma anche di inglese ma anche di minicocci e trasversale fenomeni di ibridazione questi sono fenomeni mappabili ovunque ibridazione linguistica intendo dire cioè unire l'elemento già Enrico Testa aveva cominciato a studiare in realtà sulle elementi teli psicologici di questo genere e quindi incrociando elementi anche lirici come in Federico Federici e scientifici o in Tommaso di Dio verso le stelle glaciali dove c'è quasi un documento improvvisamente che stona col sistema lirico dell'insieme ovviamente dismissione di orecchini o ciaco quindi in direzioni completamente diverse fino ad arrivare addirittura a Calandrone che utilizza il linguaggio e lo fa esplodere con tessere differenti poi tessere di origine differente altra però questa è più semplice la visione e quindi il linguaggio non solo alfabetico e quindi gli iconotesti i iconotesti sono un mondo ci vorrebbero due ore insomma perché ognuno da Sara Ventroni fino a Elisa Davoglio ma insomma alla stessa Anedda utilizzano queste interazioni con chiave anche assolutamente divergenti lo scopo di queste forme fluide di queste forme complesse è recuperare il senso si arriva infatti anche alla possibilità addirittura di recuperare una verticalità in molti di questi testi in moltissimi di questi testi si trovano questo è un testo tratto da saturazione di Minicocce che è l'ultima slide anche delle si rinnova e si ripete anche un sistema persino un sistema classico ecco la complessità della forma di citazione verticale in questo solo disgregatissimo iper sperimentale testo ci sono citazioni di Manzoni di Shakespeare e questo che cosa vuol dire frequentissima è la citazione parlavamo prima di Dante ma anche nei più giovani dei poeti il che vuol dire che proprio c'è un sistema di compensazione affidato alle forme complesse compensazione del senso altrimenti perduto in chiave anche se vogliamo di speranza e qui finisco grazie scusate per il ritardo grazie a Luigi per questo intervento devo dire molto lucido e molto bello che ci lascia anzi rammaricati per quello che ci siamo persi diciamo no no è colpa ma che speriamo di recuperare insomma attraverso slide o qualcosa eccetera eccetera come in accordo con gli organizzatori passeremo all'intervento successivo diciamo così in modo da poter in modo da poter poi diciamo fare un dibattito un dibattito un pochino più tranquillo diciamo dopo i vari interventi giusto Stefano? Sì se siamo d'accordo tanto se cominciassimo adesso la discussione probabilmente su questi temi su questo argomento così ricco forse forse non riusciremo a cominciare con il prossimo in tempi rapidi o in tempi ragionevoli e dopo tutto credo che sia anche interessante anche fare un contrasto poi con quello che dirà Francesca che avrà sicuramente qualcosa da dire che si intersegherà appunto con il gli argomenti di Seleri quindi per tutti va bene andremo avanti e recuperiamo la discussione alla fine bellissimo quindi anche io come dire che mi riservo solo se ci sarà tempo di dire qualcosa sull'intervento di Luigi che mi è interessato moltissimo in sede di clausola e dunque adesso il prossimo intervento è parte diciamo del gruppo di lettura sul ponte diversi e Riccardo Dejana giusto il ponte diversi dunque il gruppo di lettura è costituito da Riccardo Dejana Jacopo Mecca Francesco Perardi e Federico Masci giusto nato per una iniziativa appunto nell'ambito dell'università di Torino e per una rassegna che ha ospitato molti poeti anche notevoli e importanti e che si è espresso diciamo questo gruppo su varie riviste eccetera per cui l'indice avamposto eccetera darei senz'altro una parola senza mettere un altro tempo in mezzo il tema è la presenza vera del poeta negli anni venti social curricula o social curricula legittimazione e autopromozione buonasera a tutti e a tutte grazie a Paolo Zublena per questa presentazione per fare da da mediatore di questa sessione di di venti venti e un grazie particolare vorrei riservarlo a Giulia e Stefano per aver avuto il coraggio di riformulare questo convegno per noi attesissimo per evitare di perdere troppo tempo attivo il cronometro così ho più sicurezza di stare tra i venti e i venticinque minuti pattuiti allora l'oggetto del nostro lavoro ah un'ultima un'ultima cosa per qualsiasi problema di comprensione causato da disturbi di linea interferenza non esitate a bloccarmi così posso nel caso ripetere da dove mi sono interrotto dunque l'oggetto del nostro lavoro di cui questo intervento fornirà alcuni risultati e alcune proposte è l'analisi dell'uso che tra il 2008 e il 2015 14 poeti italiani per contemporanei hanno fatto dei propri profili facebook è un lavoro in primo luogo empirico induttivo imperniato sull'analisi quantitativa che ha tenuto conto di una parte della letteratura critica prodotta in Italia sui rapporti tra la poesia e i nuovi media constatandone oltremodo l'utilità nell'offrire stimoli di vario tipo euristici e classificatori in secondo luogo è un lavoro aperto vasto difficile da steccare una volta per tutte ma che al tempo stesso ci ha dato molto di vedere da prospettive inedite cioè non strettamente formalistiche o teoriche i comportamenti di una parte del campo poetico italiano e di riflettere inoltre sulle possibilità i limiti e le nuove potenzialità che lo studio dei profili facebook offre agli studi il campione preso in esame è stato ricavato da una selezione avvenuta non seguendo criteri critici estetici geografici ma privilegiando strumenti e dinamiche di penetrazione e assestamento nel campo di tipo tradizionale ci riferiamo in particolare a tre cose alla data della prima opera edita che abbiamo voluto porre orientativamente tra gli anni 0 e gli anni 10 a questo primo criterio fa da corollare il dato anagrafico nel senso che abbiamo dato priorità ai nati negli anni 70 e 80 a quelli cioè che hanno conosciuto fin dal principio il fenomeno dei nuovi social network due alla presenza di tali poeti nelle antologie uscite tra la fine degli anni 90 e la fine degli anni 10 presenza che abbiamo interpretato come un segno della penetrazione relativa stabilizzazione nel campo contemporaneo terzo punto a coloro che avessero dei profili facebook attivi o aperti molto semplicemente almeno fino al periodo d'inizio della nostra ricerca si parla della metà del 2019 sul secondo punto occorre aggiungere un'ulteriore specificazione cioè abbiamo prescelto coloro che fossero comparsi almeno due volte in due antologie diverse diverse o per il marchio editoriale o per la curatela ci riferiamo alle antologie che vanno dall'opera comune di l'adolfi della l'adolfi 99 fino a velocità della visione pubblicato da mondadori nel 2017 il periodo che abbiamo tenuto in considerazione oltre a confermare l'interesse per il movimento all'interno del campo poetico della generazione degli anni 70 e 80 coincide con la storia stessa di facebook il quale penetra in italia tra il 2007 e il 2008 e conosce il primo grande successo nel 2015 abbiamo osservato il profilo facebook dunque andando in ordine anagrafico di Marco Giovenale 69 Laura Pugno Michele Zaffarano Gerardo Portolotti Gabriele Del Sarto Flavio Santi Fabrizio Bernini Andrea Ponzo Alberto Pellegatta Carlo Carabba Matteo Zattoni Franca Micinelli Maria Borio e Dina Basso nata nel 1988 per farci capire su cosa intendiamo per operazioni quantitative che abbiamo compiuto sui profili facebook dei Poreti sulle quali abbiamo poi basato la successiva classificazione e le relative interpretazioni ne accenniamo qualcuna per esempio scorrendo il diario abbiamo contato il numero dei post di ogni singola annata di ogni singolo profilo ed elaborato una media che seppure imprecisa si rivela comunque importante al momento di trarre ipotesi e conclusioni attendibili a domande quali può esserci una specie di determinismo nel del virtuale per cui chi poco si impegna nella cura del proprio profilo anche innocianze editoriali o meno inviti a partecipare a Kermess presentazioni e simili nel mondo reale abbiamo agito in modo simile anche in rapporto ai like abbiamo inoltre osservato il grado di trazione generato da un singolo post potremmo dire il suo grado di successo contando i commenti e le condivisioni possibili i like e le condivisioni a partire dal 2010 cioè quando l'algoritmo di Facebook viene modificato anche in questo caso non per un conteggio fine a se stesso ma per porlo alla base di un ragionamento relativo alle possibilità che abbiamo scoperto se non fallite quanto meno disattese che il social avrebbe in modo immanente nel proprio DNA di allargare il campo della ricezione e della lettura all'analisi quantitativa davvero difficile da riferire nel poco tempo a disposizione ora e ancora non perfettamente sistematizzata abbiamo fatto seguire una prima classificazione da cui è scaturita una terminologia che secondo noi al contrario dell'elencazione secca dei dati è senz'altro più utile da offrire al dibattito di oggi nell'esporre la nomenclatura presenteremo poi degli esempi che hanno contribuito a renderla secondo noi valida e subito di seguito proporremo alcune considerazioni definite ipotesi di studio per gli studi su cui abbiamo riflettuto e che vorremmo stimolassere un discorso più largo abbiamo classificato i post in cinque tipi post condivisione post autocitatorio post citatorio post segnalazione e post stato dunque finita questa parte introduttiva sulla selezione dei poeti quindi sull'identificazione dell'oggetto su cui abbiamo lavorato passo a presentare questi tipi di post e dunque la classificazione che vorremmo proporvi il primo è il post condivisione che è una categoria molto vasta ed elastica utilizzata per raccogliere post di natura fotografica e musicale oppure post strettamente legati al commento di notizie dell'attualità politica e culturale italiana e non alcuni esempi il profilo di Gerardo Bortolotti dal 2008 al 2013 risulta congestionato quasi quotidianamente da post condivisione di album musicali canzoni e foto personali che dal canto loro sembrano documentare un'attività dentro di osservazione del tessuto urbano e della vita politica nella città nella quale il poeta vive un altro esempio è Fabrizio Bernini che di non letterario condivide principalmente musica mescolando generi stili senza materia precisa sembra anzi rispondere agli stimoli del momento del giorno risultando casuale l'espressione di un approccio istintivo al mezzo secondo noi non è un caso che una delle poche poesie che in sette anni cita sia il cinghiale di Bacchini a rimarcare questa fedeltà all'istinto la presenza dell'arte figurativa del cinema del teatro dell'opera lirica nel profilo di Bernini rasentano lo zero molto molto presenti invece le citazioni da psicoanalisi dalle condivisioni di Carlo Carabba per passare a un terzo esempio se messi in collegamento con gli altri contenuti del suo profilo si delinea una volontà smacatamente e spezzantemente pop e dunque condivide canzoni di Sanremo X Factor Gianluca Grignani un altro esempio è Dina Basso che mette in evidenza un interesse per la musica italiana principalmente leggera e contemporanea poca straniera e classica scarse le proposte artistiche non musicali e non letterarie prospettive per gli studi i post condivisione possono contribuire secondo noi pur nella loro obiettiva genericità a una definizione del profilo autoriale che voglia tenere in conto interessi non specificamente letterari o che con l'attività letteraria non hanno direttamente a che fare uno degli ultimi studi del cui metodo in proposito abbiamo tenuto conto è quello di Daniela Broggi su Manzoni e Caravaggio un romanzo per gli occhi pubblicato da Carocci nel 2018 la qualità e la tipologia dei materiali postati sembrano stabilire in molti casi delle congruenze e affinità con una certa produzione poetica nonché assolvere funzioni di implementazione o chiarificazione fa da cornice teorica alla valorizzazione di un post condivisione anche quello che comunemente è definito archivio privato del poeta su cui in modo esemplare secondo noi ha lavorato Scappai nel lavoro del poeta pubblicato da Carocci nel 2015 il secondo tipo di post che abbiamo dedotto dall'analisi dei profili scusate se ti interrompo potresti ripetere l'ultima frase non si è capito bene sull'archivio privato del poeta sì ok fa da cornice teorica alla valorizzazione di un post condivisione quello che comunemente ha definito l'archivio privato del poeta su cui ha lavorato Scappai nel lavoro del poeta Carocci 2015 che secondo noi potrebbe diventare uno strumento utile al fine di considerare in modo critico la condivisione di materiale non letterario nei post dei profili Facebook la seconda il secondo tipo di post che abbiamo che abbiamo coniato è il post autocitatorio che è una categoria principe per funzionalizzare i dati raccolti nella nostra ricerca tanto utile quanto semplice da definire perché utilizzata sostanzialmente dagli autori per condividere diffondere e pubblicizzare direttamente la propria produzione artistica alcuni esempi Marco Giovenale praticamente in tutto il corso dell'attività virtuale osservata sommerge la pagina di post autocitatori in forma di link tratti dal proprio blog o in forma di immagini di poesie anche se è scarsissima la risposta di altri utenti scarsissimi segni di apprezzamento scarsissimi like ricevuti il poeta tenta comunque di robustire e segnalare in questo modo il profilo virtuale della sua attività il ventaglio dei post autocitatori di Fabrizio Bernini per passare un altro esempio è così vasto al contrario di quello di Carabba Borio e Basso che al contrario è vuoto da far sembrare che all'opera ci sia un uso specifico del social funzionale a esaudire una stratta forma di pubblicazione cioè esaudire la sensazione di aver ottenuto così facendo o meglio così postando una prima stabilizzazione del testo una tendenza che suffraga quanto è stato enunciato pure a partire da un altro campione di riferimento proprio da Picconi e Zublen nel saggio prima citato del 2018 questa tendenza qual è? la dissolvenza o debolezza del macrotesto del paratesto tradizionalmente intesi la fitta proposta autocitatoria di Bernini si presenta come occasione di diffusione dei testi alternativa a quella editoriale a cui siamo abituati l'autocitazione forte in Bernini fino alla sua prima pubblicazione che forse non è un caso cioè l'apprendimento elementare non ci risulta che prima abbia mai pubblicato poesie su rivista diversamente avviene in Dina Basso la quale in un post dell'11 febbraio 2009 ironicamente dichiara che ormai è poesia proprio perché alcune sue poesie sono state pubblicate su rivista Matteo Zattoni è solito pubblicare poesie interventi che raggiungono anche punti di like e commenti significativi sia chiaro significativi rispetto ai numeri alquanto bassi che in generale si registrano per esempio una sua poesia del 2014 riceve 24 like e 10 commenti un altro esempio è Andrea Ponzo non utilizza il mezzo virtuale lui per promuovere la propria poesia infatti quasi non troviamo la presenza di post autocitatori Ponzo anzi utilizza una vena polemica spesso sprezzante e poco giustificata nei confronti dei contenitori formali in cui la poesia contemporanea è a luogo come Pordenone legge fa come poesia prendendo apparentemente le distanze da quel contesto in cui come autore dovrebbe in teoria sentirsi incluso Bortolotti per Bortolotti post autocitatori vengono utilizzati in maniera costante durante tutto l'arco di tempo in cui il profilo è attivo prospettive in merito per gli studi allora il discorso sui post autocitatori riteniamo essere importante perché tocca questioni proprie della filologia i problemi che si pongono sono molteplici il fatto che la variabilità testuale nel web sia più alta è uno di questi ricordiamo le riflessioni di Paola Italia su editing 2000 Carocci 2020 ma anche di Guido Milanese filologia letteratura computer edito da vita pensiero sempre nel 2020 la variabilità è alta ma rispetto alla vulgata comune che la crede infinita e perciò stesso inaffrontabile o da espungere preventivamente dal discorso pirologico ritorniamo si è arrivato il momento da un lato di verificare se alla prova dei fatti si è davvero infinita dall'altro nella consapevolezza che il concetto di disintermediazione vada applicato anche all'industria della mediazione editoriale tentare di iniziare a concepire quindi come luogo di pubblicazione come nel caso di Bernini e il proprio profilo speriamo sia arrivato il momento di elaborare una metodologia che possa essere utilizzabile a vantaggio di queste nuove forme testuali in breve vorremmo accogliere la lezione dell'ultimo lavoro di Paola Italia le solicitazioni di Milanese di Fiormonte e tentare di forzarli a vantaggio della poesia contemporanea che fa Capolino per la prima volta su Facebook dopo il post condivisione il post autocitatorio il terzo tipo di post che abbiamo coniato è il post citatorio i post citatori sono i luoghi scelti e valorizzati dai profili virtuali dove si apprezzano ed esibiscono gli autori amati letti o nel gergo del mondo virtuale seguiti e commentati il sistema interno di preferenze ed in diretto confronto con una tradizione letteraria sfaccettata e molteplice può essere testimoniato naturalmente da citazioni dirette in forma di post o di nota da commenti di gusto e apprezzamento ma a volte anche da lavori di interpretazione e giudizio compiuti sul corpo delle opere di cui ci si vorrebbe professare in misura variabile lettori o discendenti facciamo il caso di Andrea Ponzo è rappresentante eccellente non più di altri ma meglio di altri di un profilo virtuale che volta assume l'aspetto di un mausoleo letterario oltre alle polemiche e agli stati dove esalta la sua miserabile ma santa quotidianità di poeta baciato dal male dal dolore fisico dalla povertà e dalla tentazione le citazioni in forma di nota in forma di posto in forma di commento a versetti evangelici e biblici vanno veramente per la maggiore e il compito delle occorrenze il computo delle occorrenze è vastissimo scarse invece sono le citazioni in Bernini sia Carlo Carabba che Dinabasso fanno un uso frugalissimo anche loro della citazione letteraria in Carabba non ve n'è nessuna in Dinabasso invece sempre in linea con il suo proposito di eliminare ogni rischio di dare un'immagine auratica di sé abbiamo poche citazioni letterarie per lo più da Goliardo da Sapienza e da Cesare Pavese sovrabbondante nelle citazioni invece Maria Borio da ogni letteratura e da ogni epoca Zattoni fa un uso di questo tipo di poste per lo più in occasione di ricorrenze letterarie come premi anniversari o commemorative non sembra esserci una precisa strategia qui di esclusione o inclusione ma alcune linee alcune letture sono chiare cioè Zattoni privilegie la tradizione poetica novecentesca ipotesi interpretativa e per gli studi dal momento che il profilo in questi casi diviene molto spesso un vero e proprio collettore di influenze e un canale di esposizione e costruzione progressiva di un canone di riferimento riteniamo non assurdo provare ad interpretarlo in termini intertestuali e dunque di iniziare a riflettere sui temi che un'intertestualità espansa volontaria consapevole e multimediale ai tempi dei social network impone il quarto tipo di post è il post segnalazione dunque dopo il post condivisione il post autocitatorio il post citatorio abbiamo coniato il termine post segnalazione sotto questa categoria abbiamo raccolto i post degli autori o dei soggetti virtuali che sono esterni al protetino tramite i quali vengono esplicitamente pubblicizzati interventi convegni incontri raccolte nuovi e vecchi componimenti interviste insomma tutto quello che alimenta il vasto apparato comunicativo che attorno e tramite la rete si costituisce le occorrenze sono numerose in ogni profilo analizzato e risultano per lo più oscillanti tra un massimo giovenale e un minimo flavio santi di presenza secondo una dinamica non facilmente ricostruibile perché spesso non lineare ma non per questo impossibile e insignificante alcuni esempi grazie alle segnalazioni e autosegnalazioni presenti nel profilo di Fabrizio Bernini si possono osservare nel tempo alcune dinamiche che aiutano a capire che tipo di movimento ha compiuto e in che direzione all'interno del campo per esempio si capisce che dalla fine di novembre dall'autunno del 2011 Bernini si avvicina alla rivista Estroverso per poi uscirne progressivamente nel 2012 Maria Borio dal profilo della quale a partire dal 2011 si capisce questa vicinanza approssimazione progressiva verso le parole e le cose quasi a modo di rilancio pubblicitario ricondivide i post interventi saggi articoli dalle parole e le cose a segnalare appunto una partecipazione sembrerebbe ideologica organica e lo stesso avverrà dal 2013 con la nascita di Officina Poesia su nuovi argomenti Carlo Carabba un altro esempio è segnalato segnala e autosegnala con molta moderazione sempre con autoironia anche Dinabasso dimostra di sposare la causa di un profilo non empatico nel pubblicizzare la propria figura e i riconoscimenti ottenuti molti post segnalazione di Zattoni la maggior parte dei quali consente di individuare alcune relazioni nel campo con riviste come Atelier di cui è stato redattore e Festival come Parco Poesia Laura Pugni utilizza molto questo tipo di post segno di un impegno costante secondo noi servandolo anche in altre occasioni devoluto alla costruzione del sé autoriale Andrea Ponzo si presenta come un autore orgogliosamente escluso da quel dibattito culturale letterario che trova la propria legittimità all'interno di riviste incontri e convegni talvolta visione delle segnalazioni con incontri in cui l'autore partecipa ma solamente come studioso del cristianesimo ma anche come poeta lui patisce ed esibisce una vergogna di poeta dell'essere poeta decida e fiera Gerardo Brutolotti già dal 2010 fa riferimento ad alcune riviste letterarie per dimostrare il proprio apprezzamento e il proprio interesse in particolare nuovi argomenti alfabeta e nazione indiana prospettive per gli studi anche qui tramite questa soluzione interna alla gamma delle possibilità offerte da Facebook gli sviluppi analitici vanno nella direzione più direttamente e classicamente sociologica i post a segnalazione sono un terreno utile e riteniamo non ignorabile per capire e ricostruire il sistema e il movimento delle alleanze degli scambi delle scuole dei gruppi delle vicinanze e distanze dei poeti dentro il loro campo di riferimento il quinto e ultimo post che abbiamo poniato è il post stato abbiamo forti dubbi sulla piena legittimità della categoria dato che potrebbe essere confusa con il post condivisione ma non sulla sua relativa accuibilità i post stato sono gli elementi che più immediatamente proietterebbero verso un utilizzo diaristico cronachistico del mezzo virtuale alcuni esempi Michele Zaffarano per esempio fa un uso di modesta portata almeno fino al 2014 di post stato caratterizzati per lo più da foto personali di paesaggi urbani e naturali di dettagli di oggetti o scorci lo stile in generale è discreto in generale lo stile invece dei post di Berlino è dissacrante cinico irriverente teso sembrerebbe ribaltare le buone maniere dell'istituzione della civiltà letteraria attraverso armi non canoniche come il trash e l'esposizione di materiali imbarazzanti Lina Basso ha uno stile ironico attraverso cui filtra e media post incentrati sulla quotidianità il suo tono si fa più deciso ma mai direttivo quando riferisce dell'attualità e della partecipazione a battaglie politiche decisamente più controllata attenta e istituzionale è invece Maria Borio pochi post stato in Laura Pugno si conferma in lei la tendenza a preferire gli altri tipi di post più utili della costruzione autoriale di sé tramite il social questo tipo di post aumenta ed esplode nel 2011 con l'associazione del profilo Twitter ma sono poco significativi l'ultimo Andrea Ponzo utilizza quasi quotidianamente lo stato per rendere partecipi lettori della propria quotidianità che molto spesso viene descritta per mezzo di uno stile poetizzante inoltre lo stato viene utilizzato per muovere polemiche e scatenare dibattito che spesso ha molto seguito nei commenti intorno a convegni e incontri letterari spesso ridicolizzati e presentati come futili oziosi anche qui prospettive per gli studi nel caso dei post stato le potenzialità espressive sono numerose tanto quanto lo sono le occasioni che riuscirebbero a motivarle capricci dichiarazioni di simpatia di antipatia polemiche descrizioni della propria quotidianità affermazione di odio rispetto se crediamo alla sostanza e all'utilità critica del profilo virtuale allora il post è stato il sintomo più immediato e più scandaliabile della sua esistenza non ci sembra assurdo dunque provare a considerarlo in quanto espressione pseudodiaristica come una fonte una fonte utile sia alla costruzione biografica del poeta sia a fornire elementi potenzialmente in grado di aiutare a comprendere meglio la stratificazione semantica di un'opera dalle famose occasioni che l'hanno suscitata riferimenti ancora più precisi e dettagliati mi avvio a concludere se finora abbiamo interpretato il social dal lato delle sue potenzialità estetiche e formali e dal tipo e livello di impatto che ha avuto sul linguaggio sul paratesto sul mercotesto sulla forma libro crediamo sia giunto il momento di elevarlo a oggetto di altri tipi di analisi in particolare sociologico letteraria pirologico intertestuale a oggetto utile cioè la ricostruzione biografica degli autori e in generale una più ricca ermeneutica della loro opera grazie mille per l'ascolto e passo la parola a Zublena allora ringrazio Riccardo Dejane e anche gli altri componenti del gruppo lui era portavoce quindi abbiamo così deciso di di fare dibattito dopo i tre interventi quindi direi di lasciare immediatamente spazio al poster di Francesca Prezioso che si è laureata alla sapienza in filologia moderna con una tesi sul rapporto tra immagine e testo nei fototesti contemporanei quindi diciamo che non ci stupisce che il suo tema di stasera sia per l'appunto Marco Giovenale della casa esposta tra poesie e immagini perché il testo di cui si parla di Marco Giovenale è appunto ci dirà lei poi se è effettivamente o no un fototesto perché comunque sicuramente è un libro che è una sezione di fotografia su questo non ci sono dubbi quindi lascerei la parola a Francesca Prezioso grazie buonasera intanto a tutte e a tutti e condivido il poster ok ok allora cerco di tenermi sui cinque minuti ma ci provo allora la casa esposta di Giovenale è un'opera del 2007 in cui sono presenti componimenti scritti nell'arco di dieci anni quindi dal 96 al 2006 all'interno di di quest'opera sono presenti delle fotografie nella terza sezione il capitolo apparentemente centrale e sono fotografie principalmente in bianco e nero solamente in bianco e nero di oggetti accumulati e di luoghi abbandonati e desolati c'è una continua alternanza in queste immagini di accumuli e sottrazioni invece e proprio per questo ho scelto queste due immagini che potete vedere nel poster la prima appunto è mortale il dettaglio di un oggetto ma per metà dell'immagine c'è un vuoto mentre invece la seconda è un accumulo di oggetti abbandonati che dà anche un senso quasi claustrofobico sebbene l'ambientazione sia esterna anche se numerose poi sono le fotografie di accumuli di oggetti all'interno della casa il titolo la casa esposta è significativo perché l'opera appunto parte da da un abbandono della casa della casa paterna da uno scasamento obbligato quindi da un distacco che porta anche porta anche della sofferenza le fotografie spesso soprattutto quando si trovano inserite all'interno di fototesti o di opere letterarie diciamo vengono utilizzate come luogo di esposizione sia del diciamo di una spiegazione biografica spesso appunto mostrano luoghi o eventi di cui di cui si parla diciamo mostrano meglio al lettore la componente biografica dell'opera e mentre invece queste fotografie non svelano nulla tutt'altro invece lasciano nel non detto tant'è che il titolo di questa sezione è una parentesi quadra con nulla all'interno questo appunto rimanda sia a un senso di di assenza sia anche un po' a un mirino fotografico però diciamo quello che viene effettivamente esposto dalle fotografie appunto non è tanto la casa o il dato biografico quanto quello che comporta questo abbandono ovvero il dolore appunto questo senso di di sofferenza tant'è che in un articolo giovenale un articolo del sottrarre in fotografia e in poesia giovenale associa il mezzo fotografico alla registrazione del dolore il dolore inteso come riduzione a zero di qualsiasi alternativa come ho detto queste fotografie sono in bianco e nero però ho inserito anche una terza immagine a colori sia per mostrare l'enorme differenza tra quello che possono evocare le immagini in bianco e nero e infatti è vero quello che dice Anedda nella prefazione all'opera che questo bianco e nero ricorda anche un po' la polvere e la cenere che resta da questo abbandono della casa e questo bianco e nero però dà anche al lettore un senso di silenzio quasi di respiro tra una sezione e l'altra e questa fotografia a colori fa parte invece del paratesto quindi ho trovato anche interessante vedere come l'opera non si esaurisca solo nelle pagine ma anche nel paratesto nel libro stesso nell'oggetto libro e quindi in tutta questa sezione c'è un'alternanza di immagini di accumulo e di sottrazione così come anche di luci e ombre che vengono accentuate soprattutto con l'uso del bianco e nero questa caratteristica diciamo si riscontra anche nei componimenti all'interno della casa esposta che sono appunto molto etereogeni sono testi etereogeni un esempio di ciò è il primo componimento della seconda sezione che prende il titolo il segno meno e che inizia con appunto questa frase che ho inserito nel poster molto incisiva mi è stata sottratta una primissima forma che non ricordo una serie di forme non so definire a questo punto inizia un elenco lungo di forme che sono state sottratte perché appunto questo componimento apprende diciamo si muove con un andimento protastico e appunto è interessante notare come si parli di sottrazione ma c'è un accumulo un costante elenco di oggetti è una lista e e come appunto nella conclusione sottratto tutto tutto bene il feto è nato morto dove morte vita convivono così sottrazione e accumulo sono quasi una faccia alla stessa medaglia in quest'opera alla fine anche il buio anche quello viene tolto e infatti anche nelle poesie c'è una costante alternanza di luci e ombre che sembra richiamare appunto le fotografie della terza sezione o viceversa e mi sono dimenticata di dire una cosa molto importante la terza sezione delle fotografie ovvero che non ci sono non sono inseriti numeri di pagina né nessuna di Tascalia quindi viene tutto lasciato al lettore è il lettore che deve interpretare fare un passo in più leggendo diciamo le fotografie così come potrebbe leggere i testi però appunto con uno sforzo in più perché deve anche cercare di trovare un'interconnessione un'interconnessione che diventa particolarmente evidente nel senso di una ricerca di accumulo nella ricerca di una sottrazione che però si muove anche nell'accumulo e in questo caso sembra che la poesia e la fotografia si muovino all'interno di una stessa logica sottrattiva perché se una fotografia soprattutto quando stampata presuppone che non siano state stampate altre o anche quando viene scattata si presuppone che potrebbero esserci infinite possibilità di scattarne altre questa stessa cosa avviene anche nella poesia quindi io non so se ci sono nei tempi ma potrei concludere con una citazione da questo articolo di Giovenale del sottrarre in fotografia in poesia che mi sembra abbastanza emblematico e se i versi sono una serie che nell'accapo per esempio si autolimita se il bianco della pagina è spazio per le risonanze di quanto non è interamente detto se la disposizione delle parole sa rendersi necessaria quanto la disposizione dei vettori di senso nelle linee di una fotografia allora ci sono affinità profonde tra un certo modo di intendere la fotografia e un certo modo di intendere la poesia grazie bene ringraziamo allora Francesca Preziosa per questo suo interessante poster su uno dei libri più importanti secondo me negli ultimi vent'anni diciamo di poesia in Italia anche se forse non il libro più tipico di Marco Giovenale ma insomma forse tipico almeno di un cotè della sua produzione poetica dunque avrei moltissimo da dire sulle tre relazioni non nascondo soprattutto su quella di Luigi anche perché ha messo talmente tanta carne al fuoco diciamo che insomma c'è sicuramente molto da discutere e tuttavia come avevo promesso riservo le mie eventuali osservazioni soltanto all'ultimissimo all'ultimissima clausola diciamo di tempo se ce ne sarà e quindi chiedo invece agli altri di di intervenire credo forse usando il usando la manina giusto Stefano giusto Giulia ok quindi se volete se volete intervenire potete usare l'apposita manina che vedete bene io peraltro non credo di non sono certo di riuscire a vedere in questo momento chi ha chiesto di parlare ma se qualcun altro lo vede ah scusate Luigi stesso vuole fare una domanda a se stesso si Luigi sei senza microfono si si come ero accorto anche se tardi ovviamente dunque no soltanto gli ho parlato troppo prima dunque soltanto per ringraziare chi ha parlato dopo di me e poi mentre Francesco Prezioso stava descrivendo il proprio il proprio manifesto io stavo lo stavo sfogliando il libro anche io esatto e effettivamente ci sarebbe molto ragionare su questo e non soltanto per quanto riguarda gli ultimi anni ma in generale il novecento e in generale la modernità a partire dal cinquecento le numerazioni incredibili e infinite su questo proprio su questo soglia invisibile fra eccesso e sottrazione e notavo come questo tipo di indizio proprio conferma di quello che diceva la studiosa lo dia in fondo proprio non solo in tutto il libro ma anche nel componimento che precede la terza sezione proprio giovenale il componimento dove leggiamo già lo interessa entristisce il ritratto come categorie della natura morta l'ingiglio che eccedono c'è la parola eccedere e poi alla fine profilo sottratto quindi c'è l'eccedenza e c'è la sottrazione mentre la chiave d'uscita è data dalla prima poesia la chiave tematica diciamo a pagina centosette dove proprio c'è il dolore verso fondamentale il dolore da chiaro a sé insomma quindi effettivamente mi permettevo soltanto di aggiungere appunto di comunicare il mio entusiasmo in forma di lettura del testo dello stesso autore basta mi tacito grazie grazie mille sì poi mi sono cercata di tenere sui tempi quindi ho forse dovuto tagliare un po' sintetizzato quindi grazie per il suo intervento no no ma come era chiarissimo e anche molto molto interessante l'intervento grazie a lei bene allora insomma vedo peraltro che tra i molti che stanno ascoltando ci sono tantissimi amici li saluto tutti e li invito anche a come dire certo mi rendo conto che se intervengono tutti arriviamo domani mattina ma è anche vero invece che spazio per qualche per qualche intervento c'è sicuramente quindi coraggio nel frattempo magari io ho una domanda per Riccardo dato non so mi sentite mi senti dato che appunto prima iniziando stavamo parlando ti sento del nostro stesso ambito un po' editoriale gli studi e volevo chiederti proprio come il mondo editoriale ha reagito a questa a questa diciamo a questa dimensione che comunque va tenuta in conto nella costruzione identitaria del poeta volevo chiederti se rientra anche nelle dinamiche di mercato l'avevi accennato mi pare all'inizio del tuo intervento sì guarda secondo me l'unico modo in cui questo discorso che abbiamo fatto ha a che fare con il mercato editoriale è questo cioè che non ha a che fare con il mercato editoriale nel senso che qualche sessione fa ha partecipato una studentessa della Sapienza che ha parlato di Francesco Sole e Joe Evans ecco quello è uno di quei casi in cui il successo avuto sui social in particolare Instagram e Facebook ha prodotto poi dei libri su una spinta uno stimolo da parte degli editori ma libri parliamo di libri che hanno venduto tra le 15 e le 20 mila copie cioè casi che dal punto di vista poetico lasciamo stare la definizione estetica di poesia rispetto a Francesco Sole però hanno prodotto un successo un successo veramente incredibile e inaspettato mentre per tutti gli altri profili che abbiamo analizzato che si sono stabilizzati nel nostro canone recente l'editoria non ha non ha non ha captato non ha captato granché noi addirittura volevamo addirittura fare un confronto tra la risposta degli utenti lettori dei profili quindi risposta in termini di like commenti condivisioni e metterla in rapporto con le tirature e le vendite abbiamo scoperto che è un esperimento abbastanza fallimentare che però in linea del tutto astratta un collegamento c'è cioè il fatto che ci sia una risposta di iterazioni bassissima potrebbe essere questo appunto lo chiedo lo domando a tutti noi abbiamo riflettuto un pochino su questo potrebbe essere simmetrico alle bassissime tirature perché comunque le opere di cui stiamo parlando io ho fatto un piccolo sondaggio attraverso dei dati che ho recuperato sono opere che quando va bene tirano 200 copie quindi nulla secondo me il mercato editoriale della poesia resta di nicchia possiamo chiamarlo proprio non mercato beh diciamo che apparentemente i social network sembrano un luogo in cui l'autore ha un accesso diretto una relazione diretta con chi legge con il lettore quindi da un lato quello che dici tu appunto sembrerebbe esserci una relazione diretta però forse poi nel mercato editoriale questa è un po' una domanda che anch'io rispiro nel senso forse entrano anche altre dinamiche cioè non basta non basta quello anche se il mi piace il non mi piace possiamo considerarlo come aveva detto Muzzioli il primo giudizio critico però evidentemente non è quello che fa un testo di poesia sì sì certo certo va bene Stefano sì io appunto come al solito darei la parola agli altri partecipanti ma visto che sono un po' timide a questo punto approfitto e volevo spostare il discorso invece sull'intervento di Luigi Severi che appunto sarebbe stato appunto bello ascoltare in maniera più distesa e appunto prenderò un paio di punti che sono riuscito a incamerare appunto questa idea della della tradizione che si interrompe o almeno nella sua dimensione evolutiva e diventa o almeno la definiamo rizomatica perché forse per mancanza di migliore termine o forse perché è semplicemente qualcosa che ci rende che ci permette di avere a che fare con questa realtà che non riusciamo a descrivere che non riusciamo a comprendere in forma del tutto razionale o razionalizzabile tuttavia appunto io in realtà nelle letture soprattutto dei giovani dei meno affermati ma non solo vedo che questa tradizione esce in maniera prepotente è un recupero che forse è un sì forse può essere ricondotto a una nostalgia però una diciamo una ricerca di una tradizione una ricerca di una di riattaccarsi a qualcosa che è stato di infilarsi in un solco quindi di riallacciare forse delle radici che sono state tranciate c'è non so se questa è pure l'idea la mia idea è che la mia domanda è anche è questa era più complessa delle altre oppure semplicemente che c'è rimasto di meno essendoci rimasto di meno c'è meno da analizzare e tutto sembra più semplice ovvero delle altre epoche oppure oggi effettivamente più la questione più complessa posso rispondere? Sì ok rispondo sostanzialmente in modo dubitoso dubitante nel senso che ovviamente non ho risposta il discorso della tradizione diciamo reticolare o plurale che fanno gli storici dell'arte a me sembra molto interessante in realtà loro fotografano in particolare una questione cioè quella dell'interruzione della dinamica tradizione innovazione in sostanza non tanto la cessazione delle tradizioni in fondo che sono due cose differenti gli autori così come gli artisti non smettono di rifarsi a delle tradizioni il punto è che hanno a disposizione un vasto repertorio incrociabile di tradizioni diciamo nel momento in cui appunto cessa la formula dell'avanguardia ciò che negli ultimi ma non soltanto dell'avanguardia novecentesca insomma l'idea dell'originalità ecco l'idea dell'originalità è un tema chiave cosa può essere originale adesso cosa può essere originale dopo in particolare gli anni sessanta per questo mi sono soffermato su quel punto che gli anni sessanta rimangono a tutti i livelli un decennio veramente fondamentale cosa può essere originale probabilmente nulla probabilmente tutto c'è una frase proprio di Andrea Inglese molto interessante forse proprio dal saggio che ho citato prima che è molto bello dopo la fine dell'avanguardia tutto è avanguardia dice lui cosa vuol dire questo vuol dire che effettivamente e quando facevo riferimento a certi libri usciti negli ultimi dieci anni in Inghilterra insomma o in Irlanda insomma un tipo di poesia che mi piace molto e seguo in realtà intendevo questo è abbastanza impressionante come anche autori diciamo lirici ok quindi con una impostazione classica faccio un riferimento a forme che apparentemente sembrano sperimentali quindi l'elenco l'enumerazione il ricorso la fluidità della pagina che va verso anche supporti magari mimati magari in modo efrastico multimediale insomma è questo sfondamento del limite che vale anche per i poeti tradizionali ma che ricorrono alla tradizione nell'ultima parte dell'intervento mi scuso per averlo fatto troppo lungo ma appunto veramente non avevo un cronometro quando uno ha un powerpoint poi sfugge il tempo invece era proprio questo che volevo sarei tornato proprio su questo punto cioè sull'intensificazione addirittura dell'intertestualità di classico segno proprio nei poeti delle nuove generazioni che per un po' insomma diciamo alla Zanzotto Zanzotto è il re dell'intertestualità diciamo ed è tornato fuori quindi e questo ed è un tipo di operazione che chiaramente serve per dialogare in chiave diacronica anti-erizomatica se vogliamo dirla tutta ecco questo è il punto è il tempo è una risposta al tempo che invece tende verso l'orizzontalità e quindi c'è una ripresa di queste forme ma c'è anche per quanto riguarda le tradizioni uno sconfinamento di una tradizione nell'altra e questo volevo dire con il riferimento alle riflessioni della storia dell'arte dell'estetica insomma appunto Danto, Foster eccetera riflettono proprio su questo la fine del concetto di originalità e forse anche di poetica in cui più di un autore e anche di manifesto al tempo stesso è finita l'epoca del manifesto nel senso che nessuno può più fare un manifesto perché anche quello sarebbe tradizione in sostanza non so se ho risposto costantino costantino vi la prendi pure la parola il microfono si sente mi si sente si salve vorrei prima di tutto scusarmi per l'intervento che rischierà di essere farraginoso e mi dispiace lo anticipo già potrebbe essere un po' frammentario ringrazio gli interventi che ci sono stati perché sono stati molto molto ricchi e anche densi di possibilità di spunti da da intraprendere e percorrere e anche da incrociare proprio incrociando un po' di quello che si è detto nella discussione e nella serie di interventi mi piacerebbe porre una domanda a Luigi Severi partendo in realtà proprio dalla casa esposta perché se c'è una cosa che mi fa pensare molto nella casa esposta di giovenale nella presenza di con presenza di versi testi che non sono inversi e di fotografie e anche il titolo stesso diciamo questa risonanza dell'esposizione con l'idea di esposizione che veniva portata da Wittestein nel trattato logico-filosofico in cui faceva proprio il parallelo tra la forma della proposizione logica e l'idea di fotografia nel senso che una forma di proposizione una forma di medium di supporto quindi anche è capace di esprimere di portare determinati elementi della realtà e riprendendo quanto diceva Giulia mi domandavo ma bastano le procedure a fare poesia nel senso il fatto che siano applicate determinate procedure il trovare determinate procedure ci basta a poi parlare effettivamente del del prodotto come prodotto estetico e e magari appunto quindi richiedere al momento critico questo è un po' in realtà forse un po' antico come cosa però ritornare a un momento critico in cui non si aderisce solo ed esclusivamente alla poetica dell'autore alla poetica della procedura alla presenza della procedura ma partendo dalla procedura riuscire a scoprire proprio per quello che espone che porta in rilievo come materiali linguistici come come ideologia come come trattamento anche del materiale attraverso le procedure perché le procedure possono essere utilizzate anche secondo diverse declinazioni nel senso magari la stessa procedura può avere diverse declinazioni ma proprio tornando a un'ecologia della forma come già diceva Rubot in un intervento sull'ecologia delle forme nel medioevo in realtà era una cosa molto più ampia e indicava la possibilità di trovare delle nicchie ecologiche il fatto che le forme all'epoca si parlava di forme poetiche quindi di forme inversa fondamentalmente un esempio poteva essere l'aiku ma penso che adesso potrebbe anche essere proprio la fotografia per esempio o anche l'utilizzo di diverse procedure assieme in uno stesso testo nella creazione che comunque appunto in realtà poi il loro utilizzo in chiave differente può esporre qualcosa che non è riducibile solo ed esclusivamente alla poetica alla poetica individuale allo stile e neanche solo alla procedura ma a qualcosa anche di più generale nei movimenti linguistici nell'utilizzo della lingua sono una serie di dubbi e sono molti in realtà magari sono anche banali però non so qual è l'idea a proposito non soluzioni ma per riuscire a cogliere anche proprio questo aspetto dunque cerco di essere breve non è stato per niente far ragionoso l'intervento ma molto interessante e coglie un punto del mio forse nel senso che le procedure e la valutazione un tempo si è avuto il giudizio di valore adesso è un po' rispetto a un'opera ovviamente non può essere schiacciato solo la procedura ed è proprio quello che intendevo dire per questa lunga permessa perché mentre un tempo la procedura forse inchiodava subito il tipo di lavoro veniva giudicato quasi sulla base della procedura che aveva in sé un segno ideologico ok sulla base del procedimento basti pensare appunto a molti procedimenti di scrittori d'avanguardia di un'avanguardia e già ovviamente il tipo di forma o di punto di procedimento di procedura utilizzato in qualche modo era la spiegazione politica diciamo del senso ampio lato senso del proprio lavoro e in un sistema di forme complesse diciamo non è più così cioè la procedura occorre vedere cosa poi veicola per esempio l'utilizzo delle foto può avere nessun senso perché delle volte è semplicemente una moda e sono infilate perché gli hanno chiesto al poeta è stato chiesto sa che va fatto oppure può essere può avere dentro un'energia straordinaria può avere la procedura ecco mettiamo utilizziamo la foto come procedura è perfettamente vero quello che diceva il dentro il cuore l'ha descritto benissimo Francesca Prezioso della casa esposta è una serie di foto che vanno nel senso stesso appunto dell'accumulo sottrazione poi ci sono utilizzi delle foto diverse c'è la non foto come nel libro 5 testi gli alberi diciamo di Zaffarano che sono delle non foto poi c'è la foto barocca di Laura Pugno nel colore oro che riporta in qualche modo fa contrasto con l'iperanalogia dei testi poetici e crea quasi una vina carnale dentro il testo oppure c'è insomma nel salva con nome di Anedda per andare su tutto un'altra poeta con un uso intenso della fotografia che in parte è personale invece in quel caso e in parte è metaforica quando invece va a parlare di tragedie collettive in un sottile e difficile in esso con l'io lirico diciamo e anche in un poeta iperlirico come Ostuni ecco forse Ostuni è esattamente il sintetizza quello che che lei insomma stava chiedendo spontaneamente Davo del Tu oggi viene così chiedo scusa che lei stava dicendo perché Ostuni apparentemente prende delle modalità che sono della neovanguardia a Pagliarani ovviamente e meglio ancora Sanguiniti e tuttavia è un poeta lirico è un poeta lirico della miglior specie cioè di quello del lirico filosofo è una grande confusione sul tema del lirico e gli esempi che ho scelto sono di di quello appunto di quello che Mesa chiamava forma necessaria anzi verso necessario hanno a che fare con e con i non lirici diciamo quelli che aggirano il lirico che siano sperimentali o di ricerca per quindi diciamo l'io poetante per andare nell'oggettivo o anche invece poeti lirici veri però di tradizione filosofica diciamo della miglior specie ripeto che va da Scelli per intendersi fino a Zanzotto o a Rosselli e in Ostuni troviamo proprio questo nella sfera dell'io che si pluralizza ed accoglie materiali di ogni genere ma rimane forte la presenza di questo io lirico quindi le procedure che lui fa non sono di tipo sperimentale in realtà non lo inchiodono a una tradizione sperimentale tutta al contrario in un percorso appunto puramente di lirica alta diciamo europea ecco non so se ho risposto grazie è risposta interessante Luigi a questo punto se non ci sono altre mani non ne vedo per ora sì c'è un'altra mano quindi rimando buonasera ciao Paolo ciao Luigi ciao a tutti niente no tanto ah ciao Tommaso non ti vedevo grazie 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 per questi insomma stimolanti interventi devo dire che mi ha molto suggestionato anche quello di Dejana fatto pensare davvero a questa sorta di social social ogia della poesia o della letteratura che è qualcosa di quanto mai quanto mai stimolante e suggestivo ricordo i primi tempi più pionieristici diciamo di Facebook dove era ancora così insomma lo si affrontava con un certo entusiasmo questa le piattaforme di questo genere anche pionieristico con alcuni scrittori che in qualche modo avevano affrontato con estro anche situazionistico cosa che probabilmente nella normalizzazione progressiva diciamo di questo medium è andato sempre più a perdersi come come modalità insomma ricordo un bell'articolo fra l'altro di Gilda Policastro che uscì alla fine degli anni zero sul manifesto e fece riferimento ad alcuni blog di scrittori che suggerirei a Riccardo di recuperare se è ancora possibile farlo ecco io per quello che riguarda l'intervento di naturalmente l'intervento che offre moltissimi stimoli e appunto complessi e multiversi per l'appunto è quello di Luigi insomma che davvero ha offerto un campionario una sorta di catalogo e esteso delle possibilità diciamo di declinazione della parola in spazi in dimensioni chiaramente diciamo che comunque tutte sono previste o prevedibili dalle tradizioni del nuovo alla fin fine insomma bene o male d'altra parte è partito da da spato la no da balestrini ha citato per primo insomma questi grandi padri fondatori almeno della della ripartenza sperimentalista diciamo e delle qui va aggiunto ovviamente almeno Corrado Costa e poi insomma dire adesso ho fatto riferimento anche un altro autore di cui si parla poco ma insomma assolutamente appunto lucrezianamente straordinario e fondamentale come è Giorgio Celli ecco io direi oltre a Zanzotto ovviamente ecco io direi che però insomma ecco la questione della complessità è una questione molto molto spinosa e piena di contraddizione molto spigolosa potrei dire in rapporto alla parola no in una epoca appunto in cui mix media e costituiscono un effettivo e normalizzato forma di paesaggio un paesaggio che si abita che si abita e in cui sostanzialmente si cerca di abitare di adeguarsi ma alla fin fine la parola riesce ad abitarla ad adeguarsi ad adeggiarsi sempre con un certo grado di potremmo dire di autoresistenza di appunto sempre un po' goffamente alla fin fine ecco diciamo in fondo la complessità nella parola in poesia diciamo comunque attuata attraverso la parola è questione di cosmesi o di effettivo profondo e inapparente attraversamento ecco io credo che non credo che sia sempre diciamo in fondo la forma manifesto ecco la forma manifesto non quelli appunto che vengono proposti nell'ambito del 2020 nell'ambito e anche oggi molto interessante il manifesto di Francesca Prezioso però ecco la forma diciamo manifesta il manifestarsi della parola in una serie di procedure in qualche modo esemplari o anti-esemplari che vogliono esemplificare in qualche modo anche proprio rovescio esemplificare anche diciamo le linee esemplificabili un configurarsi mi mando il caso mi mando il caso ma sempre in qualche modo al di sotto diciamo della soglia del caso del caso caos che ovviamente è comunque inarrivabile e insomma tutto sommato forse non è mai all'altezza veramente di quel verbo di quel verbo che da qui nasce tutta la poesia moderna il verbo di un'alchimia profonda di un'alchimia radicale che possa in qualche modo configurarsi attraverso una sorta di autodefinizione sottile inapparente sotterranea potremmo dire una sorta di autocontestazione radicale che possa essere anche svolta senza sostanzialmente delle procedure così evidenti così apparenti ecco in questo direi che appunto la domanda che rimane è questa in fondo il codice il linguaggio in quanto codice dei codici in quanto la lingua ecco in quanto del codice dei codici fino a che punto è bypassabile fino a che punto è contestabile in qualche modo diciamo più ancora che contestabile proprio installabile effettivamente fisicamente quali sono i limiti dell'installabilità della parola e fino a che punto appunto la forse è una tecnologia effettiva del bypass della parola di una disattivazione tutto sommato del codice e di una tensione di appunto di appunto di pervenire a qualcosa che il codice non rende possibile no? non rende possibile è qualcosa in fondo è una tecnologia dell'inapparente in fondo una tecnologia magica una tecnologia forse alchemica una tecnologia di qualcosa che è sensibile avvertibile come pulsazione profonda appunto il bypass di fondo lo è e ma non appunto come in qualche modo come configurazione come superficie insomma non è tanto questione di valore anzi diciamo è molto interessante importante secondo me questa critica del principio di valore del giudizio di valore del principio di valore che il berri insomma nell'ultimo numero dove c'è anche una bella una bella indagine di Marco Giovenale sulle forme della ricerca contemporanea ma non solo ipercontemporanea ma non è questione quindi di valore ma in fondo anche di appunto di qualità di godimento ecco in fondo il testo richiede anche una valenza che comunque la si voglia dire comunque la si voglia apprendere comunque la si voglia configurare una forma in qualche modo anche viscerale e potremmo dire in qualche modo indicibile se vogliamo di godimento che è qualcosa in fondo inalienabile dal lato estetico sia nella fruizione sia in fondo nella configurazione del testo quindi è chiaro che tutto può essere ovviamente godibile potuto essere però è probabile che una vera tecnologia se vogliamo del godimento attraverso un'installazione effettiva e rinaturalizzata della parola non è ancora forse del tutto diciamo tranne qualche esemplare testo diciamo fra quelli che tu hai citato però insomma ecco forse non è ancora diciamo pervenuta ecco forse un altro dubbio insomma la fruizione la fruizione la fruizione quindi la percezione che noi abbiamo del testo quindi anche l'interpretazione che noi possiamo attivare rispetto a un testo è una questione relativa al risultato o al processo o al processo nel senso che a mio parere il processo è necessario naturalmente per arrivare però a un risultato e comunque il godimento deve essere qualcosa che può avere una memoria del processo può avere una memoria dei circuiti per giungere alla superficie a quel grado di superficie ma deve essere anche astratto a mio parere insomma un godimento estetico una sorta di tensione di proiezione di transfert diciamo deve essere anche a prescindere se vogliamo da quest'atto di straniamento radicale che pur è necessario su configurarsi ecco per dire ultima cosa ecco io adesso tu hai citato Vincenzo Stuni io potrei citare allo stesso titolo Eris che è il tuo ultimo libro bellissimo davvero complimenti insomma uscito da uscito da Ragno per cui di cui ho scritto anche alcune righe provvisorie ma insomma credo che sia davvero un testo molto importante ecco io credo che il grado di complessità a cui dovremmo pervenire è qualcosa che passa ovviamente attraverso una eterogenea multiversa potremmo dire è anche spazializzata se vuoi forma di pensiero della parola ma non è necessariamente in qualche modo l'ostensione riservata riservabile all'ostensione se vogliamo di un procedimento che è qualcosa che a mio parere va comunque riassorbito dalla possiamo dire dal risultato e quindi dal godimento intellettuale o anche in qualche modo il transfert emotivo se vogliamo dire anche questa brutta e inattuale parola che in fondo un testo dovrebbe attivare va bene scusate tanto del tempo perso e rubato però insomma grazie ancora tantissimo a voi grazie anche a Francesca fra l'altro devo dire che appunto è arrivata l'ultima cosa giustamente una precisazione di Fiammetta Cirilli che parlava in fondo della presenza in fondo diciamo anche circoscritta nel senso che effettivamente la cosa interessante della case esposta che non è l'interazione appunto abbiamo parlato a volte di una certa essere goffi in questa interazione del mix media di una parola che comunque è un codice assolutamente onnivoro assorbi tutto è una carta assorbente una spugna per certi aspetti ma è anche qualcosa di totalmente inadeguato rispetto al se vogliamo al paesaggio multimedia e insomma a quel pictorial term che insomma di cui Mitchell ha su cui Mitchell ha insistito in tempi non lontanissimi però ecco direi che appunto diciamo la cosa interessante di questo libro è proprio il fatto che il circoscriversi della fotografia è in una sezione una sezione in cui in fondo l'immagine prende totalmente rispetto all'iperpresenza diciamo del verbo del piano testuale è una sezione in cui appunto fra parentesi quadra in cui esistono soltanto delle immagini che effettivamente prendono nel loro articolarsi nel loro caos nel loro caos effettivamente sono anche delle parole delle parole senza senza linguaggio insomma ecco quindi questo credo che sia la peculiarità importante di questo libro come diceva Paolo molto importante degli ultimi del nuovo del nuovo millennio grazie Tommaso non so se Luigi vuole non so i tempi grazie Tommaso grazie moltissimo per questo ricchissimo intervento e anche per il tuo apprezzamento che ovviamente mi fa molto piacere come già ti ho scritto dunque i temi sono tantissimi ovviamente e ritoccano più o meno tutto l'intervento quindi non abbiamo altri 20 minuti io dico soltanto due cose uno il disagio della parola effettivamente dentro le procedure è vero c'è soprattutto nei testi migliori io prima abbiamo fatto un regesto senza appunto dire cosa effettivamente colga nel segno e cosa no ma insomma è un regesto di procedimenti che sono in cui il disagio della parola nello stare dentro un procedimento a contatto con una complessità anche intesa che non basta come categoria ovviamente epistemologica e al tempo stesso è persino eccessiva è come sanno i teorici della complessità la complessità è un tema ovviamente autocontraddittorio è chiaro che c'è un'accelerazione c'è un'intensificazione di tutti i processi in questa fase della modernità ed ecco allora che effettivamente ha ragione Tommaso quando dice che tutto ciò che tutti quei procedimenti ma insomma quelle tecniche quelle modalità anche perché l'enumerazione è una modalità insomma più che una tecnica è variamente utilizzata in diversi contesti fanno già parte del disagio se vogliamo fondamentare della parola e del linguaggio è una scoperta infatti viene la prima accelerazione di questi usi si ha proprio dopo Gutenberg come Tommaso sa perfettamente è una seconda accelerazione sia nel corso dell'epoca mass mediale e in particolare oggi quindi è chiaro che ci sono dei forti legami in realtà con delle tradizioni non lo so ma sicuramente sono dei procedimenti che attraversano la storia del linguaggio che si fa a poesia tirandone fuori un disagio profondo alla ricerca di qualcos'altro insomma poi anche altri sul tema del godimento estetico insomma molto molto bisognerebbe dire e forse non è qui non è questo il punto però ci tenevo soltanto ad allacciarmi a queste riflessioni di Tommaso va bene grazie ancora grazie Luigi dico solo una cosa brevissima io secondo anche risposta in parte a quello che diceva Stefano e poi in dialogo con te diciamo pur tenendo presente che ovviamente esiste sempre quella che Locke chiamava la contemporaneità del non contemporaneo e quindi che ci sono diversi tempi in uno stesso tempo non tutti ugualmente all'altezza del tempo di quel tempo ma insomma ci sono ovviamente forme più avanzate forme meno avanzate che pure hanno una cittadinanza estetica che può essere insomma voglio dire non sono certo prive di valore estetico qualunque sia se non ci mettiamo a discutere della questione del valore se la mia opinione è che l'ultimo verri ha attaccato troppo poco diciamo così il concetto stesso di valore estetico ma insomma su quello si discuterà un'altra volta ecco quello che volevo dire è che una effettiva rottura con la tradizione anche proprio nelle forme più avanzate di quella che oggi chiamiamo poesia di ricerca c'è stata cito soltanto due libri fondamentali cioè An original genius poetry by other means in the new century di Marjorie Perloff non una ragazzina ma insomma una che ha saputo cogliere certi fenomeni anche sia pure diciamo nuovi anche rispetto a lei e poi un creative writing di Kenneth Goldsmith ovviamente sono due libri che ci ci mettono insomma davanti questo questo problema appunto di una desoggettivazione che arriva fino appunto alla cancellazione dello stile individuale del valore estetico via dicendo e anche a una pluridiscorsività che ormai fa completamente agio sull'intertestualità letteraria via dicendo diceva Luigi che ci sono nuove forme di recupero dell'intertestualità letteraria però in alcuni di questi casi l'intertestualità sparisce oppure esce dalla porta rientrando poi dal balcone perché per esempio nel caso di Zaffarano si potrebbe discutere di questo però diciamo quello che potrei dirgli in forma di nobanda è non è che una grande differenza appunto di rottura recente è che questa complessità sia trasferita dal piano diciamo così semantico testuale alla cornice pragmatica alla pragmatica alle istruzioni per l'uso con cui il testo va letto e via dicendo in questo ricordando ovviamente un po' quello che è successo nell'arte concettuale ovviamente la risposta è che per alcune scritture è effettivamente proprio così ed è vero che c'è un collegamento con l'arte concettuale diciamo che sono prima parlava della installabilità mi pare Tommaso della parola effettivamente però tra le ibridazioni e gli sconfinamenti che effettivamente ci sono in molta poesia in italiana internazionale il contatto con l'arte concettuale è molto forte quindi c'è tutta una poesia sperimentale che in Italia si autodefinisce poesia di ricerca e scrittura di ricerca che è una delle molte categorie che sono state trovate in questi anni mi pare la più felice diciamo scrittura di ricerca che è una parte della scrittura sperimentale a mio modo di vedere è recente e con strumenti importanti è sicuramente il testo con le istruzioni per l'uso cioè quel testo in sostanza che fa sparire l'io e lo fa rientrare sotto forma di intenzione e effettivamente è una modalità è una modalità molto frequente molto frequente e anche molto diffusa anche negli scrittori più giovani in qualche modo si può dire anche che la scrittura di Mitu è parlato di Michele Zaffarano Michele Zaffarano ha degli epigoni sembra sembra sembrava in un momento aver creato quasi una una specie di 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 Arachismo Zaffaraneo non so ancora se c'è l'aggettivo però effettivamente eh perché è un tipo di di testo eh molto interessante perché è un tipo di eh dispositivo lui si rivederebbe se sentendo questa parola che però effettivamente eh eh ha una una un fascino e una capacità di eh di aprire significati eh politici sull'oggi sul linguaggio stesso eh metalinguistici molto eh molto potente ecco eh però non è l'unico insomma non ci sono soltanto testi eh che hanno a che fare con come dire con le istruzioni per l'uso quella è una parte eh e poi eh ce ne sono però come dicevi te molte altre perché c'è una incredibile eh ricchezza di 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 tradizioni in questo momento che collaborano e si contaminano reciprocamente nelle scritture io ho citato soltanto le scritture dai cinquantenni come si sarà notato si sarà notato in giù insomma non quelle di insomma non ho fatto riferimento a ottonieri ovviamente a Mesa e i loro libri fondamentali di quegli anni però ecco dai cinquanta ai venti ai trentenni alle trentenni attuali effettivamente la la molteplicità di eh di testi e anche il fatto che alcune parti del testo all'interno di un testo eh questo è molto interessante bisognebbe ragionarci ci sono dei testi eh dei libri in cui soltanto una parte soltanto una sezione ha le istruzioni per l'uso come come tu dicevi per esempio il il terzo paesaggio che citavo prima della Morresi c'ha il capitolo appunto terzo paesaggio la sezione chiedo scusa eh in cui effettivamente c'è un tipo di lettura nelle altre nelle altre nelle altre sezioni si richiede un altro tipo di lettura se vogliamo più canonico ecco quindi c'è questa collaborazione simultanea in uno stesso testo di diverse tradizioni diciamo così sì direi che la cosa tra l'altro succede proprio nel più volte citato e anche intervenuto giovenale quindi insomma sì esatto beh lui è proprio forse è vero come tu dicevi prima è un po' inusuale però in quegli anni lui scriveva eh scriveva una poesia quasi lirica in realtà perché quella della casa esposta anche lì in tradizioni insomma lirica eh con uno scarto ovviamente lirico però insomma in tradizione comunque novecentesca la casa esposta a criterio dei vetri Shelter eh del Vo sono libri che hanno una loro coerenza ma è una delle linee delle raggere un tempo lui parlava di raggera del stile ed è quello che prima su cui prima mi sono pur rapidamente soffermato e poi ci sono tante altre ci sono tante altre scritture che si dipanano da un unico centro ecco sì lui ne è proprio ne è proprio una manifestazione eh complessa appunto benissimo io quella la chiamo modalità post-lirica ma sicuramente ci siamo modalità post-lirica sì sì esatto bene diciamo che abbiamo fatto una scelta ora non so se Stefano vuole intervenire su questo no io in realtà non volevo appunto eh non non volevo aggiungere altro su questo argomento eh volevo solo appunto portare il saluto e il ringraziamento di Marco Giovenale che mi scrive e mi dice appunto che ringrazia Luigi Severi e Francesca Prezioso che purtroppo è dovuto andare via e no invito a continuare se ci sono altre insomma insomma altre altri argomenti su su questo eh se no e se no poi volevo fare un'ultima molto semplice domanda a Riccardo prima di chiudere e a questo punto la faccio no semplicemente eh intanto volevo complimentarmi appunto per la 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 capacità e rigore eh metodologico ammirevole eh del dello studio che sicuramente è estremamente originale eh ai limiti dello stalking eh però però sicuramente ci dice molto insomma sulla sulla realtà appunto sia adesso non ricordo il titolo eh preciso ma comunque eh la la presenza la presenza vera quindi un veramente mettere i piedi per terra anche se poi stiamo parlando di eh di entità astratte eh quando parliamo di testi no la l'unica domanda è che vuol dire quando è che facebook ha cambiato l'algoritmo e che vuol dire in che senso e come è influito sulla sulla comunicazione forse appunto una cosa notissima che ho che ho che io non conosco però appunto se puoi spiegarmelo ma guarda la domanda è molto complessa eh quello che abbiamo riscontrato noi vabbè che facebook ha cambiato molto spesso molto spesso soprattutto all'inizio quando era nella fase di una stabilizzazione insomma e e poi acquisiva successo quindi evidentemente aveva anche appunto intermini etologici deterministici aveva bisogno di fissare un una modalità un funzionamento un'immagine di sé quello che abbiamo semplicemente messo in rilievo perché funzionale il nostro tipo di ricerca è il cambio che c'è stato a partire dal 2010 perché in effetti io non ricordavo mi sono iscritto a facebook molto tardi però non ricordavo che in effetti fino al 2010 non era non era possibile mettere in piace e non era possibile condividere e quindi siccome dal punto di vista di una come dire delle metriche del virtuale ci interessava analizzare la risposta degli utenti dei lettori ci siamo trovati appunto a dover considerare questo aspetto perché taglia in due la storia di facebook nel senso che i profili di alcuni poeti che iniziano a pubblicare dal 2008 al 2010 devono essere interpretati diversamente rispetto a post pubblicati a decorrere dal 2010 poi tu mi hai chiesto l'influenza ha avuto sul linguaggio qui veramente alzo bandiera bianca mi arrendo perché appunto si entra in un discorso di immaginario molto complesso che insomma forse non sono neanche in grado di sintetizzare una battuta immagino sia estremamente complesso però grazie perché mi mancava questa dal 2010 semplicemente gli utenti hanno la possibilità di interagire di più sembra strano comunque da quel che mi ricordo c'è sempre stato ma questo è il mi piace anche io mi ricordavo così invece invece no grazie prego posso fare una domanda a Riccardo Dejana sì io ci sono ok ma è una dunque questo lo studio è mirato a a capire il comportamento diciamo sociale del 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 poeta in relazione alle poetiche alle riviste al movimento e questo mi pare è molto interessante ma può avere anche un un riflesso sullo studio del del poeta in sé secondo voi o no questa è la domanda cioè c'è un qualche gioco di rimbalzo di riflesso che può in qualche modo gettare luce anche effettivamente sul sulla poesia sulla scrittura oppure è solo sociologia della letteratura ecco allora assolutamente nel senso che l'obiettivo come diceva Stefano non è quello di stalkerare anche se dei motivi legali ce li siamo posti ora sicuramente il piano la linea di ricerca è soprattutto sociologica toglierei il solo sociologica nel senso che secondo me è un aspetto importante che è poco battuto e poco considerato il piano sociologico ma ci siamo resi conto studiando analizzando i profili che è più interessante dell'aspetto sociologico apri chiudo parentesi che attraverso il profilo facebook è ricostruibile in modo molto rapido e semplice è più interessante dell'aspetto sociologico proprio gli elementi che il profilo offre alla ricostruzione e all'interpretazione della produzione del poeta del poeta come diceva lei in sé è per quello che forse ho letto troppo velocemente alcuni passaggi non sono risultati chiari però quando parliamo di intertestualità ci riferiamo proprio a quello cioè un profilo come quello di Fabrizio Bernini in cui compaiono poesie pubblicate solo sul proprio profilo prima della prima pubblicazione mondadoriana del 2011 diventa interessante perché si possono fare anche dal punto di vista variantistico dei sondaggi delle sperimentazioni vedere come il testo era in origine fissato lì perché appunto è vero che il testo nel web è variabile però ci siamo anche resi conto che in realtà per motivi pragmatici i poeti si dimentichano di aver depositato dei testi nel proprio profilo nel 2008 nel 2009 e quindi sono recuperabili comunque sì assolutamente crediamo che abbia un valore molto molto testuale molto funzionale la ricostruzione della poetica del discorso poetico di un autore perfetto grazie io non volevo comunque ho detto solo ma per me è molto interessante l'aspetto sociologico e l'aspetto proprio materiale della letteratura è a dir poco appassionante in ogni epoca quindi non era solo in modo riduttivo era anzi però effettivamente è vero c'è anche questa altra lettura grazie molto grazie a lei Federico vuoi intervenire anche tu e poi il professor Fumilio e poi sì volevo rispondere al professor Severi perché la domanda che ho posto in realtà è stata legata diciamo a uno dei fulcri che ha mosso il nostro tentativo di ricerca e che poi in parte è stata verificata nel senso che quando abbiamo iniziato a raccogliere il materiale è stato un lavoro che si è certificato molto nel tempo che ha seguito diverse fasi che ha tentato appunto una sintesi anche abbastanza lenta una appunto delle questioni che ci o meno che mi preoccupavano era si divideva all'interno di un doppio rischio nel senso che da una parte avevo per quello che mi riguarda e poi l'ho proiettato verso le persone che hanno fatto con me il lavoro avevo paura di osservare questo tipo di campo che era così rifunzionalizzando delle categorie che erano state pensate in altri orizzonti di riferimento e che erano state applicate e che erano diventate applicabili in altri orizzonti di riferimento e poi fare sì che il lavoro critico si traducesse appunto nella riapplicazione di queste categorie tante delle categorie che avete sentito al di là di quelle che abbiamo provato a coniare sono naturalmente il frutto di sguardi esterni del nostro lavoro che hanno guardato campi che non riguardano cioè che non hanno direttamente a che fare con il funzionamento dei profili virtuali e l'altro rischio era se questo diciamo potrebbe essere definito più conservativo l'altro era più sperimentale nel senso che ed è questo che secondo me fonda e in parte risponde alla domanda che hai posto perché soprattutto per quello che riguarda il post-stato in parte per quello che riguarda il post-condivisione cioè avere a disposizione questo materiale e avere la possibilità di interrogarlo in un determinato modo che è il modo che prima abbiamo cercato di suggerire chiede anche indirettamente di riconfigurare determinati di due strumenti per osservarlo nel senso che il post-stato proprio per questa natura un po' prometeica un po' metamorfica diventa proprio un collettore di strategie testuali molto diverse cioè il post-stato serve diciamo è una categoria che è servita a descrivere o legittimare una funzione ma che poi trovava un principio di variabilità all'interno di tante estrinsecazioni per esempio il post-stato ha la funzione di rappresentare il profilo come un diario però le forme in cui questa funzione si realizza sono molte c'è lo stato c'è la nota quindi il ventaglio di possibilità diciamo testuali chiamiamolo così anche se dal punto di vista virtuale è molto ampio e corrisponde più o meno all'elasticità del mezzo e questo principio è applicabile anche più o meno alle altre categorie ora uno dei diciamo valori della nostra ricerca secondo me risiede proprio nella possibilità di mettere in discussione determinati strumenti e di arricchirli in parte il discorso che ho fatto è valido per il post-stato ma può essere applicato anche diciamo agli altri esempi fatti ed è la testimonianza di un lavoro di interrogazione critica che cerca di rimodularsi rimodellarsi a contatto con questi con questi rilevamenti che hanno prodotto poi determinati tipi di risultati ecco grazie grazie allora intervengo no molto brevemente per dire sì credo che la questione diciamo non sono aggiornatissimo devo dire su queste tecnologie facebook perché me ne tengo alla larga da questo medium da circa 12 anni soltanto i primi parlavo delle prime fasi un po' pionieristiche e a cui ho insomma diciamo un minimo attivamente e diciamo in modo abbastanza disturbante se vogliamo partecipato però ecco secondo me la questione interessante al di là dello studio di questi studi preziosi e interessantissimi che sono stati condotti da voi insomma che credo che davvero siano comunque da estendere anche ad altre categorie di artisti ovviamente insomma è chiaro che il poeta rappresenta se vogliamo una nicchia al limite anche pittoresca insomma ecco perché rispetto ad altre categorie di artisti è molto più defilato è molto più come dire insomma difficilmente così non c'è mercato c'è una rete comunque fittissima soprattutto in questo periodo insomma molto di più degli anni 90 in cui invece erano davvero delle piccole carbonerie insomma quelle che si incontravano si incrociavano si scontravano magari adesso c'è una una sorta di estensione che è anche un po' un appiattimento se vogliamo del dibattito per certi aspetti comunque però vabbè su questo non voglio troppo insistere però la cosa secondo me interessante direi che rispetto forse ai primi tempi ma erano anche altri tempi di utilizzo più aperto secondo me della tecnologia più in qualche modo diciamo appunto di una complessivizzazione più estesa più ramificata forse in effetti sarebbe interessante studiare piuttosto le modalità di tesorizzazione anche di carattere di formalizzazione proprio insomma in fondo appunto di social media ecco io credo che in fondo gli scrittori gli artisti poeti utilizzino in qualche modo in modo volta per volta autoprovozionale sociale interattivo però in fondo ombelicare per certi aspetti questo medium però non cogliendone diciamo in qualche modo le possibilità anche in fondo di possiamo dire anche i bugs potremmo dire le zone margini di operatività che invece sarebbe molto importante secondo me proprio per contestare però attraverso il sistema stesso cioè cercando di costruire magari delle forme ecco io un tempo pensavo ad una ecco io purtroppo non sono non ho la pazienza di essere un narratore insomma la costanza non ho la forma mentis non è anche purtroppo il tempo e sono abbastanza dispersivo per evitare insomma diciamo in modo strutturale questo però in effetti avevo immaginato una possibile così insomma una possibile forma appunto anche narrativa insomma in qualche modo che facesse che si strutturasse attraverso in combinazione fra status all'epoca però devo dire che i like sono intervenuti credo nel 2009 poco poco prima che io uscissi insomma da questa piattaforma che ormai mi pareva veramente indecente però insomma diciamo che ecco io penso che probabilmente c'è è possibile anche immaginare qualcosa di diverso qualcosa di più appunto di nuovo situazionistico in grado di attraversare il sistema magari senza necessariamente smontarlo perché probabilmente non è possibile siamo come d'altra parte ha dimostrato un magnifico film su Zuckerberg di social media insomma credo che siamo tutti in qualche modo degli ingranaggi nel modo dell'altro anche non partecipandovi però insomma in qualche modo facendo finalizzando altrimenti questa tutto sommato questo campo di potenzialità diciamo così parliamo un po' perdonianamente che potrebbe essere insomma diciamo una social media io tentai diciamo ecco non ebbi la costanza di appunto di strutturare una narrazione ampia su questo che avrebbe dovuto farsi adalersi anche diciamo dei commenti delle potremmo dire delle migrazioni di pagina in pagina e via dicendo sarebbe stato un'opera piuttosto interminabile per certi aspetti però scrissi una sorta di poemetto basato su degli status facebook diciamo almeno possibili disturbanti stranianti status e proprio intitolandolo a cosa stai pensando ecco diciamo che è una cosa minima se vogliamo però insomma credo che non mi pare che siamo stati fatti almeno troppi ed è una cosa assurda paradossale insomma cioè tutti stanno in questa in questa specie di freak show enorme assurdo paradossale parodistico per certi aspetti autoparodistico però nessuno pensa in fondo di trovare una chiave per insomma in qualche modo per almeno per sfruttarlo davvero io sto scomparendo come vedete però vorrei comunque ringraziare tutti gli organizzatori i relatori che hanno parlato quelli presenti non più presenti quelli che hanno parlato anche quelli che non hanno parlato perché avevano il loro portavoce e quelli che sono intervenuti con interventi diciamo di straordinario interesse e anche tutti quelli che hanno ascoltato ho visto una lunga lista che non sono intervenuti ma certamente hanno partecipato con come dire con interesse Stefano e Giulia bene ringrazio anche io tutti i nostri relatori Luigi Severi Francesca Prezioso tutto il gruppo del Ponte Diversi e naturalmente Paolo Zblena per aver coordinato questa serata così complessa potremmo dire e vi do appuntamento alla settimana prossima sempre alle 18 con Giuseppe Andrea Liberti Giordi Valentini e Michele Paragliola Grazie a tutti